... Mercoledì 20 giugno 19 e 10, buonasera e ben trovati con InfoStudio. Con il dibattito, la polemica infuocata, montante sul censimento dei ROM, che è comunque un'operazione che ha attirato polemiche, quella annunciata dal Ministro dell'Interno Salvini, immaginarsi il rilevo mediatico che ha, l'operazione, il blitz che è stato compiuto nell'accampamento di località Scordovillo alla Mezzia Terme. Un'enclave quasi inaccessibile, una vera bomba ambientale, una bomba ecologica per i miasmi che si sviluppano ogni volta che vengono bruciati rifiuti, molte volte anche pneumatici, con a distanza di poche decine di metri, pochissime centinaia di metri, l'ospedale San Giovanni Paolo II. E poi i reati all'interno del campo, lo sappiamo, sono sempre stati numerosi e molte volte l'accampamento è stato oggetto di inchieste. Questa volta l'inchiesta parte da lontano, dal 2017, da allacciamenti elettrici abusivi e arriva fino ad oggi, fino alle 39 misure cautelari, 5 delle quali sono stati veri e propri arresti notificati stamattina in un'operazione che ha visto impiegati circa 200 carabinieri e coordinata dalla procura di la Mezzia Terme. Riassumiamo tutto. Lo smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, elevato ad affare ed organizzato a livello imprenditoriale nell'accampamento di località Scordovillo di la Mezzia Terme. Un'enclave difficilmente accessibile, una bomba ambientale sicura per chi lavorava ai rifiuti e bruciava gli scarti, anche a costo di causare un inquinamento alquanto pesante del suolo e quasi certamente anche della falda acquifera. Fa rumore in giorni come questi il blitz dei carabinieri che su ordine della procura di la Mezzia stamattina sono arrivati in forze nel campo nomadi. 200 i militari impiegati in un'operazione che ha portato alla notifica di 39 misure cautelari, 5 arresti e 34 di vieti di dimora e dal sequestro di una società specializzata nel trasporto dei rifiuti. I reati contestati sono a vario titolo traffico illecito di rifiuti, discarica non autorizzata, inquinamento ambientale, furto aggravato e violazione di sigilli. Le indagini che hanno portato al blitz hanno avuto un prologo poco più di un anno fa, nell'aprile 2017, quando dopo aver individuato un mega allacciamento abusivo alla rete elettrica che serviva ad alimentare le case dell'accampamento, furono denunciate 43 persone, 12 delle quali arrestate in flagranza per furto di energia elettrica. Da lì è partito il lavoro investigativo che ha portato alla scoperta di una complessa filiera criminale, al cui vertice ci sarebbe stata la società di trasporto rifiuti Beda Ecologia, amministrata da Antonio Berlingeri, sede legale nello stesso insediamento Rom. E' ad essa che numerosi residenti del campo vendevano, dopo averle raccolte, grosse quantità di rifiuti che poi venivano lavorati sul posto prima di essere trasportati presso altre società dell'Interland Lamettino. Solo che lavorare i rifiuti in questo caso significava anche buttare gli scarti lungo la via d'accesso dell'accampamento e darli alle fiamme. I risultati sono ancora tutti lì, sul terreno marcio e bituminoso e probabilmente nelle viscere, fino alla falda, come documentato dall'Arpacal. C'era stato anche un altro sequestro delle aree adibite a discarica e il Comune aveva effettuato onerose operazioni di bonifica, ma il fenomeno non si era ridotto. Ci siamo mossi esclusivamente per tutelare la salute pubblica, ha spiegato il procuratore Curcio, aggiungendo che è paradossale che l'ospedale di Lamezia, distante solo pochissime centinaia di metri, debba bloccare la sua attività per i fumi pericolosi provenienti dal campo. Mentre il sostituto procuratore, Giulia Scavello, ha sottolineato come l'azienda sequestrata avesse a disposizione mezzi pesanti, compresa una gru, a testimoniare un'attività organizzata che coinvolgeva molte persone, benché non risultava avesse personale regolarmente assunto. Sono state registrate significative e pericolosissime ipotesi di inquinamento del suolo e dell'aria che hanno indotto l'ufficio ovviamente a richiedere ed ottenere dal GIP le 5 custodie cautelari in carcere e 34 divieti di dimora nel Comune di Lamezia Terme. Quindi un'attività investigativa che affonda le sue radici del tempo e che sicuramente è svincolata dal discorso attuale, dal discorso politico attuale e quindi va contestualizzata sicuramente almeno nell'anno 2016. Poco prima dell'inizio della conferenza stampa sull'operazione, un gruppo di una trentina di persone di etnia Rom ha fatto ingresso nell'atrio del Palazzo di Giustizia per protestare contro i 34 divieti di dimora. Dopo aver parlato con esponenti delle forze dell'ordine, sono stati accompagnati fuori senza altri momenti di tensione. 509.307 giovani italiani stamattina si sono svegliati con un'ansia terribile, probabilmente accadrà, forse molto meno rispetto a stamattina, anche domattina, loro non sanno invece quanto sono fortunati. Parlo dei maturandi che hanno affrontato la prima prova scritta, quella di italiano, questa mattina e dobbiamo dire che dopo molti anni, mai come quest'anno, le previsioni sulla vigilia sono quasi tutte state rispettate circa le tracce, c'è da mesi, lo sappiamo, mesi prima di solito si scatena il cosiddetto tototema, cioè le previsioni formulate in vista della prova di maturità. E allora le persecuzioni razziali partendo dal capolavoro di Giorgio Bassani, il giardino dei Finzi Contini e fra l'altro le persecuzioni razziali affrontate a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione di cui ricorrono i 70 anni, poi il tema sulla cooperazione internazionale con il focus su Alcide De Gasperi e Aldo Moro, anche perché quest'anno, da pochi giorni, abbiamo celebrato il quarantennale dal suo rapimento e uccisione. E poi l'amore e la solitudine di Alda Merini, la poetessa per la prova d'arte, massa e propaganda, anche questo tema attualissimo. Queste le tracce principali dell'esame di maturità 2018. Esami di maturità che come ho detto hanno riguardato 509 mila studenti in tutta Italia, di cui 492 mila interni. In Calabria i maturandi sono stati 18 mila e 78 in tutto, anzi sono 18 mila e 78, tutti per uno, uno per tutti. Sono 6 mila e 400 in provincia di Cosenza, 5 mila e 200 in provincia di Reggio Calabria, 3 mila e 300 in provincia di Catanzaro e poi 1.500 spiccioli, 1.579 in provincia di Crotone, 1.511 in provincia di Vibo Valencia. Domani mattina alle 8.30 il bis con la seconda prova, la terza invece in programma per lunedì prossimo 25 giugno, sempre a partire dalle 8.30. Ma diciamo che il ghiaccio è rotto e che il grosso della tensione probabilmente per quanto riguarda le prove scritte è stato superato oggi, poi c'è anche l'orale. Tocca loro, ma sono, ripeto, persone estremamente fortunate, benché magari pensino il contrario. Parliamo invece adesso di minorenni che fortunati certamente non si possono considerare, quelli che arrivano in Italia in special modo quelli non accompagnati, per i quali tuttavia il livello di protezione è salito, se ne è discusso a Catanzaro, su impulso fra l'altro della regione. Il progetto Incipit, di cui la Calabria è una delle otto regioni che del progetto stesso sono titolari, offre una metodologia nuova per affrontare questo problema. I percorsi di protezione e le pratiche di integrazione per i minori non accompagnati, che sempre più numerosi sono arrivati negli ultimi anni nel nostro Paese, sono stati il tema del convegno promosso a Catanzaro da Regione Calabria, Associazione Nazionale dei Comuni ed Ordine degli Assistenti Sociali. È stata l'occasione per valorizzare le buone pratiche avviate in Calabria nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e della più complessiva strategia di protezione umanitaria, grazie al progetto Incipit, ovvero Iniziativa Calabria per l'identificazione, la protezione e l'inclusione sociale delle vittime di tratta. Quello calabrese è uno dei venti progetti finanziati in Italia, ma la nostra regione è una delle otto che ne è anche titolare, poiché si tratta di una delle più esposte al fenomeno degli sbarchi. Per l'assessore regionale al welfare, Angela Robbe, la questione dei minori va affrontata con rispetto. I minori, ha spiegato Robbe, non sono propaganda, sono il futuro, da qualunque parte del mondo essi provengano. È particolarmente importante parlare di minori stranieri non accompagnati e di minori stranieri con tutto quello che sta avvenendo. C'è una situazione di emergenza ancora sui minori, sui minori stranieri, c'è la necessità di interventi che tengano conto della particolarità di queste persone, di questi giovani che arrivano in Italia e c'è soprattutto da tenere conto delle esigenze che queste persone che arrivano da fuori, delle possibilità che noi abbiamo di accoglierli in maniera positiva, attenta è sensibile anche rispetto a tutte le problematiche che questi ragazzi possono trovare in Italia. Per cui la nostra presenza oggi in questo convegno vuole manifestare la necessità di attenzione a questa fascia di persone che arrivano, attenzione ai minori stranieri non accompagnati perché vengano accuditi, vengano aiutati, vengano sostenuti in un percorso anche di integrazione e possibilmente vengano strappati a tutte quelle forme di sfruttamento che altrimenti diventano l'alimentazione della criminalità organizzata e non organizzata. L'approccio è stato spiegato nel corso del convegno e di risolvere i problemi con percorsi concreti ed il progetto Incipit è ormai indicativo su come muoversi con un metodo congiunto e condiviso, dall'approfondimento alla collaborazione interistituzionale, alla crescita degli strumenti per contrastare la criminalità organizzata. Ma i problemi sono anche altri. A sorpresa infatti il presidente dell'Ordine Calabrese degli Assistenti Sociali, Ferrara, sottolinea che anche posizioni e convinzioni personali in questo momento storico stanno rappresentando un ulteriore, sorprendente inciampo all'interno di una categoria che per definizione è tra quelle che dovrebbero tendere la mano incondizionatamente ed accriticamente. Invito tutti gli assistenti sociali a rivalutare la posizione del nostro ordine, a rivalutare la propria posizione in un'ottica di apertura verso l'accoglienza del migrante perché purtroppo sto notando una deriva populista anche all'interno del nostro ordine. è una piccola frangia di persone che si dissociano o pensano di agire in maniera autonoma affermando che l'ordine non debba essere di destra, di centro, di sinistra. È vero, l'ordine non è un organo politico, però l'ordine ha il compito di sposare, ad abbrecciare lo spirito che contraddistingue la nostra professione, lo spirito dell'accoglienza e dell'amorevolezza verso il prossimo. La Regione Calabria si appresta a chiedere al Governo lo stato di calamità naturale per i danni causati dal maltempo tra il 16 e il 19 giugno, in questa stranissima metà di giugno davvero incredibili sono i disagi e i danni causati dalle forti piogge dei giorni scorsi. Ho immediatamente dato mandato al dirigente della protezione civile, Tansi ha detto il Presidente Oliverio, di istituire un gruppo di lavoro per la predisposizione delle relazioni tecniche che accompagneranno la delibera di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza. Intanto i meteorologi parlano di una breve ma intensa perturbazione che colpirà ancora il nostro Paese ed in particolare le regioni orientali e meridionali, determinando un brusco calo delle temperature e nuovamente forti piogge, non sono esclusi addirittura nubi fragili. Ha abbandonato a se stessa la moglie affetta da disturbi psichici, una donna assolutamente non autosufficiente e incapace di intendere, l'ha segregata in casa a San Demetrio Corone senza acqua e tra i suoi stessi escrementi. Ferdinando Cadicamo, 59 anni, il marito di questa donna è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di abbandono di persone incapace. Le indagini dei carabinieri che sono avvalsi anche di sopralluoghi con personale sanitario hanno portato alla luce una situazione di forte degrado, questa è la catapecchia in cui la donna praticamente veniva lasciata. Nell'abitazione tra escrementi e rifiuti di ogni genere non c'era l'acqua, i servizi igienici non funzionavano, vedete che il carabiniere ha tentato di aprire il rubinetto e l'uomo che avrebbe dovuto provvedere ai bisogni della moglie perché ne era l'amministratore unico di sostegno viveva in un altro comune, si recava in questa casa ogni tre o quattro giorni, quindi la donna viveva in stato di completo abbandono e mangiava solo nei giorni in cui l'uomo le faceva visita, una vicenda davvero raccapricciante. A Reggio Calabria la Guardia di Finanza ha arrestato un avvocato, Santo Alfonso Martorano, per aver attuato una truffa, anzi una serie di truffa ai danni di alcune banche attraverso una società di intermediazione, l'accusa per lui è di associazione per delinquere, finalizzata alla truffa aggravata, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. C'è un nuovo protocollo diagnostico-terapeutico per affrontare le malattie nefrologiche renali, ovvero con una vera e propria collaborazione tra medici che afferiscono a questa patologia che è molto complessa e che presuppone purtroppo nel caso di cronicità e di peggioramento naturalmente dalla situazione anche danni a livello di altre zone del corpo, per cui naturalmente c'è bisogno di altre figure, di altre professionalità mediche. Per adesso questo metodo è adottato dalla sanità pubblica nell'area centrale della Calabria, ma si spera che presto possa esserlo anche nel resto della Regione. Una stretta collaborazione tra nefrologi, cardiologi, medici di medicina generale, diabetologi, dietisti, infermieri, psicologi, per giungere alla più efficace gestione del paziente nefropatico. E' questo l'atto finale del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale cui è giunto il tavolo tecnico sollecitato dall'ANED, l'Associazione Nazionale degli Emodializzati. Il documento presentato a Catanzaro rappresenta un passo in avanti verso l'obiettivo della prevenzione delle malattie renali e la riduzione delle persone che ogni anno arrivano dalla dialisi. In sostanza si tratta di linee guida per un modello assistenziale della malattia renale con un percorso completo della presa in carico del paziente. Per ora inizia ad essere adottato dalla sanità pubblica dell'area centrale della Calabria, ma si spera che presto venga condiviso in tutta la Regione. Abbiamo di recente approvato nell'area centro Calabria un PDTA, cioè un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per le malattie renali che prevede la presa in carico globale del paziente, dalla fase di prevenzione fino al trapianto fino al fallaupo posto trapianto. L'iniziativa di oggi con la costituzione di questo comitato interdisciplinare è un'ulteriore tappa, vale a dire un comitato in cui accanto alla figura del nefrologo ci sono anche e soprattutto il cardiologo e il diabetologo, cioè quelle malattie che sono strettamente correlate con la malattia renale. La malattia renale cronica è ormai una delle più importanti cause di morbidità della popolazione e rappresenta un rilevante e crescente problema di sanità pubblica. In Italia la patologia renale colpisce il 7% della popolazione e nel nostro paese si contano quasi 50.000 dializzati e 22.000 trapiantati di rene, più altri 7.000 in lista d'attesa. Inoltre sono ben 3 milioni, non tutti consapevoli, coloro che sono alle prese con un'insufficienza renale cronica. Oltre ai diabetici noti c'è tutto un insieme di gente che ha il diabete e non sa di averlo, quindi è molto importante la prevenzione, fare anche una semplice glicemia di persone particolarmente predisposte, quindi che hanno familiarità o che sono in sovrappeso obese o che fanno una vita esageratamente sedentaria, fare la glicemia, perché una cura precoce del diabete può prevenire sia l'esordio stesso del diabete o comunque rallentare le complicanze, tra cui le complicanze cardiovascolari e renali. Oltre a fornire il percorso diagnostico-terapeutico, il documento indica le linee di diagnosi precoce delle nefropatie genetiche ed individua gli indicatori di processo. Ma non è vero, sottolinea il commissario alla Sanità, Scura, che sul trattamento delle patologie renali la Calabria sia tanto indietro rispetto alle altre regioni italiane. La Calabria è al terzo posto in merito alla dialisi pubblica, quindi è sbagliato dire una cosa di questo genere. Tra l'altro, in stretta collaborazione con l'ANED noi abbiamo attrezzato più ambulatori, più siti anche all'interno degli ospedali dove accogliere i dializzati. Stiamo ulteriormente lavorando perché anche questo diventi un fiore all'occhiello della sanità calabrese. Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Crotone, la notizia nella tarda mattinata, la recessione prima consensuale con il Foggia che aveva posto molti ostacoli, bisogna dire che era sotto contratto fino al 2019, poi la firma su un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Stroppa succede a Walter Zenga e dovrebbe, uso il condizionale, allenare il Crotone in Serie B? Dovrebbe perché oggi è arrivato il deferimento per tentato illecito sportivo del Parma, bisognerà vedere come questa vicenda sviluppa. Ora il Parma, Calaiò e Ceravoli, i due giocatori più la società, sono sotto processo per tentato illecito sportivo e in tre dieci giorni arriverà il processo davanti al Tribunale federale. Crotone che però comunque si abitua naturalmente all'idea di, anzi è già abituato all'idea di giocare in Serie B. Stroppa ripeto era legato al Foggia, adesso ha potuto firmare, è stato un calciatore di qualità notevoli, anche quattro presenze in nazionale con Arrigo Sacchi e poi la Lazio in Milan, quella società che l'ha lanciato nel grande calcio. Dunque vediamo 243 presenze 24 gol in Serie A, fra l'altro con il Milan ha vinto anche uno scudetto, due coppe dei campioni, due supercoppe UEFA, due supercoppe europee ed una coppa intercontinentale e poi la buona carriera da allenatore ha cominciato proprio con il Milan primavera vincendo anche una Coppa Italia, poi due volte il Suttiroli, il Pescara, lo Spezia e infine il Foggia che ha portato fino alla soglia dei play-off nel campionato terminato da poche settimane. Domani inizia l'estate, il 21 giugno, domani parte anche l'operazione Mare Sicuro, sono gli angeli che vegliano sulle nostre vacanze, gli uomini della guardia costiera, ovvero sul rispetto del codice marittimo, sulla salvaguardia naturalmente delle persone che sono in mare e sul rispetto delle regole da parte di coloro che nel mare navigano e poi anche il rispetto naturalmente della pesca, del paesaggio, della flora e della fauna marittimi. E allora domani parte Mare Sicuro, noi vi mostriamo lo spot 2018 con immagini oltretutto molto belle, molto rinfrescanti e vi ricordo, ma lo fa anche appunto questa clip che stiamo per mandarvi, che c'è il numero blu, il numero per le emergenze in mare che è il 1530. sta per partire lo spot Mare Sicuro, parte ve lo assicuro. Mare Sicuro, parte ve lo assicuro, parte ve lo assicuro. Mare Sicuro, parte ve lo assicuro. La guardia costiera c'è, facciamo in modo di esserci tutti, ciascuno per la sua parte, a rispettare il mare come risorsa naturalmente e a viverlo in maniera assolutamente serena perché poi l'estate è la stagione delle vacanze e dovrebbe essere, deve, deve essere la stagione della tranquillità. 1530, vi ricordo ancora il numero blu per le emergenze, quando mai dovesse servire, speriamo mai. È tutto per questa edizione. Tra poco, dopo di noi, come ogni giorno, fino a venerdì prossimo, Domenico Milani con una nuova puntata dell'Italia del Sud, Infostudio torna domani alle 13.50. Grazie per averci seguito e buona serata.